Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di cellula eucariota. La video lezione prenderà in considerazione le caratteristiche generali delle strutture e degli organoli che compongono le cellule eucariote, animali e vegetali, in modo da avere un quadro generale sull'argomento. In altre video lezioni parleremo in modo più approfondito dei vari componenti delle strutture cellulari. Bene, cominciamo col dire che la cellula è l'unità fondamentale di ogni vivente ed è in grado di conservare le caratteristiche della vita. Come sappiamo gli esseri viventi vengono definiti unicellulari quando sono provvisti di una sola cellula, ad esempio lieviti e batteri, e pluricellulari quando sono formati da più cellule, come ad esempio organismi animali e vegetali. Le dimensioni di una cellula eucariota variano generalmente da 10 a 100 micrometri e sono notevolmente maggiori di quelle batteriche. Le cellule eucariote presentano una organizzazione piuttosto complessa. Si distinguono nettamente da quelle procariote per la presenza di organoli cellulare, cioè di corpuscoli ben differenziati e provvisti di una loro membrana che li separa dal citoplasma. Questi organoli effettuano una serie di complesse reazioni in modo che si svolgono indipendentemente le une dalle altre. E questo fenomeno viene definito come compartimentazione. Ciò conferisce alle cellule eucariote la possibilità di svolgere contemporaneamente molti processi biochimici anche se incompatibili tra di loro. La maggior parte delle cellule, quando siano sospese in un liquido, assumono forma sferica per effetto della tensione superficiale. Tuttavia, se ad esempio esaminiamo le cellule di un organismo umano ed animale, esse hanno spesso forma molto diversa da quella sferica. Si possono avere cellule piatte e cubiche come nelle cellule epiteliali, possono essere provviste di prolungamenti come quelle nervose oppure a forma di cilindretti come le cellule muscolari. Negli organismi pruricellulari le cellule si organizzano a costituire delle aggregazioni definiti col termine di tessuti, come ad esempio quello connettivo, epiteliale, muscolare e nervoso. I tessuti si associano formando gli organi come per esempio cuore, fegato, pancreas. E da un livello ancora superiore di organizzazione, più organi possono dare origine a quelli che vengono chiamati apparati oppure sistemi. L'organismo, per esempio quello umano, è quindi formato dall'insieme di tutti gli apparati. Fatta questa breve premessa, passiamo in rassegna i vari organoli della cellula eucariota. Il nucleo è situato di solito centralmente ma può assumere in determinati tipi di cellule una posizione eccentrica. Esso è delimitato da un involucro membranoso, la membrana nucleare, che lo separa dal citoplasma e contiene una sostanza particolarmente colorabile chiamata cromatina. All'interno del nucleo troviamo inoltre uno o più organelli sferici chiamati nucleoli. La cromatina rappresenta lo stato interfasico dei cromosomi che sono i portatori ereditari. Interfasico significa quando la cellula è a riposo. I cromosomi invece sono chiaramente visibili come singoli bastoncelli soltanto durante la divisione cellulare. Essi sono costanti per numero, forme e dimensioni in ciascuna specie e contengono il DNA che è la sostanza chimica costitutiva dei geni. Il nucleo comunica con l'ambiente esterno grazie alla presenza dei pori nucleari che rappresentano l'unica via di passaggio di sostanze che entrano ed escono dal nucleo. Nel nucleolo invece avviene la trascrizione e la maturazione dell'RNA e dell'assemblaggio dei ribosomi. La cellula è delimitata da una membrana plasmatica detta anche membrana cellulare che regola gli scambi con l'ambiente esterno. Essa è costituita da un doppio strato fosfolipidico in cui sono immersi glicolipidi e colesterolo. Sono inoltre presenti gruppi di proteine responsabili di numerose specifiche funzioni cellulari. La membrana plasmatica viene vista come un mosaico fluido nel quale le proteine sono inserite entro il doppio strato fosfolipidico e possiamo immaginare queste proteine quasi come galleggianti in un mare di lipidi. Infatti le proteine di membrana possono muoversi lateralmente attraverso il doppio strato fosfolipidico. La superficie cellulare è ricoperta da un rivestimento di carboidrati chiamato glicocalice. Questi carboidrati svolgono un importante ruolo di marcatori per il riconoscimento cellula-cellula. All'interno della cellula troviamo il citoplasma. Dal punto di vista chimico in aggiunta ad un'alta percentuale di acqua che varia da 75 all'80%, l'analisi del citoplasma rivela una presenza di sostanze inorganiche ed organiche e una grande quantità di macromolecole sia semplici che complesse. Il citoplasma appare nella cellula come un corpo amorfo ed omogeneo, privo di struttura e mostra la presenza di organuli di dimensioni sub-microscopiche, come per esempio il complesso del Golgi, ribosomi, lisosomi e via discorrendo. Questi organuli sono strutturalmente e funzionalmente correlati tra di loro che nel loro insieme costituiscono il sistema membranoso del citoplasma. Il reticolo endoplasmatico rappresenta il primo punto di biforcazione della destinazione delle proteine. Nelle cellule animali le proteine destinate alla secrezione, ai lisosomi, alla membrana plasmatica sono tradotte sui ribosomi legati alla membrana e trasferite grazie a sequenze di segnale al reticolo endoplasmatico rugoso mentre la loro traduzione procede. Nel reticolo endoplasmatico avviene il corretto ripiegamento delle proteine che così assumono la loro struttura tridimensionale. Il reticolo endoplasmatico liscio è privo di ribosomi ed è costituito da tubuli e vescicole. Le funzioni del reticolo endoplasmatico liscio sono molteplici. Esso partecipa alla biosintesi di delipidi e del colesterolo, degli ormoni steroidei sino al metabolismo del glicogeno e costituisce un importante deposito di ioni calcio. Vediamo ad esaminare l'apparato del Golgi. L'apparato del Golgi risulta costituito da una serie di cisterne membranose appiettite che sono impilate le une sulle altre. All'apparato del Golgi è inoltre associato un numero elevatissimo di vescicole. L'apparato del Golgi svolge la funzione di modificare e di selezionare le proteine per le loro diverse destinazioni. Le proteine modificate proveniente dal reticolo endoplasmatico sono selezionate e impacchettate in vescicole di trasporto dirette agli endosomi, ai lisosomi, alla membrana plasmatica o all'esterno della cellula. Tuttavia in questo organulo avvengono anche importanti processi biosintetici quali la sintesi di molecole polisaccaridiche e di alcuni lipidi e glicolipidi. Altra struttura importante sono i ribosomi. Essi appaiono come delle dense particelle di diametro compreso tra i 15 e i 20 nanometri e possono essere distribuiti nel citoplasma e quindi parliamo di ribosomi liberi oppure associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. Essi sono costituiti da due subunità, quella maggiore e quella minore. All'interno dei ribosomi avviene un importantissimo processo chiamato sintesi proteica. I ribosomi possono inoltre essere associati tra di loro dando origine ai poli ribosomi. Un altro importante organulo è il lisosoma che è fondamentalmente un bacuolo contenente un'elevata concentrazione di enzimi litici, dette anche idrolasi acide, che intervengono nei vari processi digestivi della cellula. Nei lisosomi sono stati identificati più di 40 enzimi che hanno in comune la proprietà di degradare per esempio acidi nucleici, lipidi, proteine e carboidrati. Altri organoli importanti sono i perossisomi. Sono piccoli organelli ovoidali delimitati da una membrana semplice. Essi si originano come vescicole che gemmano dal reticolo endoplasmatico. All'interno dei perossisomi troviamo la presenza di un enzima chiamato catalasi. Quest'ultimo è implicato nella rimozione del perossido di ossigeno, cioè di acqua ossigenata, e di metaboliti tossici dell'ossigeno, che sono prodotti in piccole quantità durante i processi metabolici. I perossisomi svolgono un ruolo fondamentale nell'ossidazione degli acidi grassi. Nella cellula eucariota troviamo i mitocondri, che sono degli organelli presenti in tutti gli organismi, sia animali che vegetali. Essi appaiono come bastoncelli o filamenti. Giocano un ruolo fondamentale nella produzione di energia e sono dotati di una doppia membrana. Nei mitocondri troviamo la matrice mitocondriale, che contiene gli enzimi del ciclo di Krebs. La membrana interna contiene complessi proteici coinvolti nel trasporto di elettroni nella fosforilazione oossidativa, in cui vengono rigenerate e prodotte le molecole di ATP. Una struttura fondamentale della cellula eucariota è il citoscheletro. Esso consiste in una rete di proteine filamentose che si estendono attraverso il citoplasma in tutte le cellule eucariote. Il citoscheletro è costituito da tre tipi fondamentali di filamenti, dai microfilamenti, dai filamenti intermedi e dai microtubuli. Il citoscheletro forma una struttura di sostegno che determina anche la forma della cellula, la posizione degli organelli e l'organizzazione generale del citoplasma. Esso è responsabile del movimento cellulare e controlla anche il trasporto intracellulare di organelli e di altre componenti, come per esempio durante le fasi della mitosi e della meiosi. All'interno della cellula troviamo il centriolo e un organolo che interviene durante la riproduzione cellulare. Nella cellula animale ne sono presenti due, disposti ad angolo retto e situati nelle vicinanze del nucleo. Le cellule eucariote sono dotate anche di ciglia e flaggelli. I flaggelli sono filamenti allungati che svolgono funzione motoria e hanno lunghezze superiore ai 10 nanometri. Le ciglia sono strutture analoghe ma più corte e più numerose e possono ricoprire l'intera superficie cellulare. Esse svolgono numerose funzioni, ricordiamo ad esempio la presenza di ciglia sulle cellule delle pareti della trachea con funzione di cattura e successiva espulsione di eventuali particelle solide penetrate durante l'ispirazione. Vediamo adesso ad esaminare le strutture tipiche delle cellule vegetali. Una prima struttura è la parete cellulare. Essa è molto più spessa della membrana cellulare ed è arricchita di cellulosa che dà alla cellula una migliore protezione e un maggior sostegno. Mantiene la forma delle cellule e ne limita un eccessivo assorbimento di acqua. Nelle cellule vegetali troviamo i plastidi. In questo gruppo di organuli sono presenti i cromoplasti, i leucoplasti e i cloroplasti. I cromoplasti sono organuli che racchiudono al loro interno sostanze colorate, generalmente gialle, rosse e violacee. Sono particolarmente abbondanti nei fiori e nei frutti e danno funzione di segnalazione facilitando il lavoro di ricerca degli animali impollinatori. I leucoplasti, detti anche ammiloplasti, rappresentano i depositi dei materiali di riserva come ad esempio l'amido. Sono particolarmente abbondanti nelle cellule degli organi di riserva come semi, tuberi e radici. I cloroplasti sono organelli responsabili della fotosintesi clorofiliana e sono per molti aspetti simili ai mitocondri. Essi servono per generare energia metabolica e sono responsabili della conversione della CO2 a carboidrati. Inoltre i cloroplasti sintetizzano amminoacidi e componenti lipidici delle proprie membrane. Esaminiamo per ultimo il vacuolo. Esso consente alla cellula di raggiungere notevoli dimensioni, rappresenta un sistema di escrezione di rifiuti, funziona come osmometro mediante variazione di concentrazione del succo baculare e rappresenta un organolo di riserva di acqua e varie sostanze come sali minerali. Bene, io ho terminato la lezione, abbiamo fatto una brevissima generale carrellata su quanto riguarda i vari organoli cellulari e dedicheremo altra lezione per ulteriori approfondimenti. Un saluto e alla prossima.